Sono mamme che appunto seguono un corso di formazione che è anche abbastanza impegnativo con tirocimio pratico e sono mamme che hanno deciso di dedicare il loro tempo libero che non hanno, perché le mamme non ce l'hanno il tempo libero, a aiutare le altre mamme. Arezzo adesso potrà contare su 14 nuove mamme PIR, le mamme alla pari, donne che si mettono a disposizione per sciogliere dubbi e paure delle neomamme adeguatamente formate dall'ASL con un corso teorico e pratico. Aiutarle nell'allattamento ma aiutarle anche un attimo nel rifasare quel momento iniziale che è tanto bello ma a volte può essere anche un po' complicato o comunque un po' disarmante. Quindi avere davanti un'altra mamma che è in grado di capire quello che le stai dicendo, qualsiasi cosa tu le voglia dire e di aiutarti magari a incanalare la strada giusta per essere più serena possibile. A conclusione del percorso di formazione sono stati consegnati gli attestati alle nuove mamme PIR, una giornata che si inserisce in chiusura delle iniziative promosse in città per la settimana mondiale dell'allattamento. Come azienda teniamo fortemente a questo, le mamme PIR sono una realtà importante che danno valore anche ai nostri percorsi. Le mamme PIR sono presenti nei consultori, sono presenti in ospedale, nel nostro rooming in e lavorano insieme a noi, con noi, come mamme alla pari, però come supporto importante per gli operatori. Per cui noi ringraziamo tantissimo Carlotta e tutto il gruppo che in questo momento noi certifichiamo insieme a tutte le altre mamme già certificate.